Buonasera a tutti. Come abbiamo annunciato prima nel promo, iniziamo questa sera questo momento di preghiera. L'abbiamo intitolato così, Stola, Porta e Busso. È un pezzo, è un brano del Vangelo che ci ricorda proprio questo, che il Signore desidera entrare nelle nostre case, stare in nostra compagnia e in questo tempo di avvento anche noi ci raccogliamo come comunità, come famiglie per questo momento di preghiera. Questa sera ci aiutano le tizie e i labia a pregare e poi nei vari lunedì si alterneranno con altri che ci daranno la mano per vivere bene questo momento insieme. Cominciamo la nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amo. Oggi inizia il tempo d'avvento che prepara la nostra famiglia e i nostri cuori ad accogliere il Signore che viene. Ripetiamo insieme, vieni o Signore a visitarci con la Tua pace, la Tua presenza ci riempirà di gioia. Vieni o Signore a visitarci con la Tua pace e la Tua presenza ci riempirà di gioia. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, state attenti voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e panni della vita e che quel giorno non vivi vi addosso all'improvviso. Come un lancio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Regliatelo ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Abbiamo ascoltato ieri questo Vangelo, stasera ne abbiamo preso solo un pezzettino. È un pezzettino importante però perché ci dice un atteggiamento. Il Vangelo di Luca ci dice state attenti a voi stessi perché i vostri cuori non si appesantiscano. Ecco impariamo a vedere così questo tempo di avvento. Un tempo in cui toglierci di dosso ciò che ci appesantisce. Tutte quelle cose inutili di cui carichiamo le nostre giornate, la nostra vita. Tutte quelle cose che ci rendono poi faticosa la vita. E invece proviamo a concentrarci durante questo tempo sulle cose più importanti. Coltiviamo meglio le nostre relazioni, diamo tempo, diamo spazio alle persone che abbiamo attorno. Diamo tempo, diamo spazio alla preghiera. Perché il Natale non sia semplicemente una festa di sentimento vuota e che non serve a niente. Ma veramente questo tempo sia il modo in cui noi ci prepariamo capire ad accorgerci che quel bambino che nella notte di Natale deporremo in questa casa che si sta costruendo è veramente Dio che viene abitare in mezzo a noi. E allora chiediamo proprio l'aiuto del Signore perché a questo tempo di avvento lo possiamo vivere bene, togliendoci di dosso quello che ci appesantisce, ritornando a ciò che conta e facendo delle nostre relazioni con gli altri e con Dio qualcosa di fondamentale, qualcosa di bello, qualcosa che deve sempre crescere ogni giorno. Lo chiediamo al Signore in un momento di silenzio dove ciascuno di voi può fare anche la sua preghiera. Ciascuno di noi ha un motivo per cui pregare. Questo è il momento per presentare a Dio la nostra preghiera personale. preghiati. O Signore che ci invidi ad essere vigilanti nell'attesa del tuo ritorno, apri i nostri cuori alla speranza, fa che ci amiamo reciprocamente e non ci chiudiamo alle necessità dei poveri e di coloro che sono nel bisogno. Tu che sei la luce del mondo, risplendi come questa candela nella nostra casa. Accompagnaci in questo cammino perché la nostra gioia sia piena. E ora concludiamo la nostra preghiera chiedendo l'avvento del Regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal mare. Amen. E alla fine chiediamo la benedizione del Signore che scenda sulle vostre famiglie, sulle vostre case, sulle persone che in questo momento ne hanno più bisogno. Stiamo uniti nella preghiera, ricerchiamo, custodiamo, coltiviamo l'unità in questo tempo di avvento per camminare insieme verso quel bambino che vogliamo riconoscere come Dio. Il Signore sia con voi, vi benedica e vi protegga Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti, buona preghiera e ci vediamo l'edì prossimo. Grazie a tutti.